Tranquilli sto arrivando, mi vedete arrivare con un boli di giallo Ancora mi devo abituare a questa cosa, pure andare allo stadio un'ora e mezza prima però fa piacere perché ci godiamo di più la famiglia Allo stadio la gente viene, si diverte, poi si arriva allo stadio, metà stadio italiano quindi è bello anche questo university life Physi L'Amico sono ancora molto colleghi, a loro ricerca, divenue italiana Grazie a tutti.